Siamo due vittorie su due di una stagione di playoff dove nessuno ci dava un centesimo, se non noi stessi che credevamo in noi stessi dal primo giorno che siamo venuti in campo. Siamo arrivati secondi dalla stagione regolare, abbiamo vinto due su due in casa, non so cos'altro dire per riuscire a riempire almeno due pullman da 50 persone, di gente che viene a urlare con noi a gazzata. Concentriamo tutti i cuori qua dentro, iscrivetevi e andiamo a gazzata e spugnare.